Quando lei mi ha detto che la tua moglie possa andare a piangere, c'è una ragazza lì che sarà molto contenta della tua ultima esibizione. Allora, ciao, ciao, sì, parlo con te, con lei, che mi stai avanti, che è anche lento, ha parlato con te. Allora, adesso, guarda la tua gioia quando lei mi grata cosa porta. Il gelato di Exo. E la vedete quella signore. Parti con il gelato Exo. Parti con il gelato. Parti con il gelato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.